In apertura della sessione di ottobre del Consiglio Provinciale di Bolzano sono state trattate diverse interrogazioni sui temi d'attualità. Assessore e assessori provinciali hanno risposto a 19 interrogazioni poste da consigliere e consiglieri, tra cui una sulla situazione del personale negli ospedali di Silandro, Brunico e San Candido, ed una sulle Tiny Houses in Alto Adige. L'opposizione ha poi presentato diverse emozioni, sono state respinte una proposta del Partito Democratico per l'elaborazione di un piano d'azione per la digitalizzazione uniforme dell'azienda sanitaria, così come altre due di Südtiroler Freiheit. Una di queste chiedeva di fermare l'impermeabilizzazione del suolo, la seconda di migliorare l'efficienza del servizio postale in provincia. Respinta anche la mozione della Fraifraction che chiedeva di dare più valore al mondo dell'istruzione, creando migliori condizioni di lavoro e retribuzioni più alte per gli insegnanti. Nell'ambito della seduta di mercoledì si è svolta anche l'audizione del direttore generale dell'azienda sanitaria Christian Kofler. Egli ha riferito non solo dello stato attuale dell'azienda, ma anche delle tre sfide principali che intende portare avanti. Rafforzare i servizi di base sul territorio, ridurre i tempi d'attesa sia al pronto soccorso sia per le visite specialistiche e sviluppare la digitalizzazione. Un cantiere quest'ultimo che secondo Kofler deve essere chiuso nei prossimi due o tre anni affinché questa digitalizzazione possa effettivamente essere un aiuto concreto per i cittadini e per i collaboratori dell'azienda. Infine, il direttore generale dell'azienda sanitaria ha risposto alle varie domande dei consiglieri.